io sono neri marcore e doppio il protagonista joe garner ti trovi nell'antemondo dove le nuove anime sviluppano personalità interessi e manie prima di andare sulla terra il ruolo dell'insegnante è qualcosa non troppo distante da me in questo caso l'insegnante di musica unisce 22 elementi positivi belli che mi piacciono uno che appunto quello dell'insegnamento l'altro la musica che che è una mia grande passione che sto coltivando sempre più negli anni e che progressivamente è diventata anche una una ragione di vita professionale quindi in qualche modo mi sento vicino vicino a joe garner il protagonista di questo film proprio perché condividiamo la stessa passione nel suo caso è proprio la sua ragione di vita tant'è che pur essendo contento di insegnare ai ragazzi delle medie è un po frustrato perché comunque non è riuscito a vivere nel mestiere proprio di musicista ma in questo film avrà una grande occasione strano non tornano i conti un'anima manca all'appello mi piace che il film parli di predisposizioni di scintille di quel seme che ognuno di noi ha dentro e che deve trovare continuare a cercare fino a che non lo trova io sono nato per suonare e nessuno potrà fermarmi ognuno di noi ha un talento particolare più di tutti gli altri e quindi scovare quel talento e farne poi la propria ragione di vita la propria professione o comunque è un hobby che si coltiva quasi come fosse una professione è una benedizione perché laddove passione e professione corrispondono si dice che non si lavori mai neanche un giorno nella vita